Ho presentato giorni fa una risoluzione in seconda commissione per chiedere la riduzione o l'azzeramento delle tariffe, quindi del pedaggio, per quanto riguarda tutto il periodo dei lavori sotto il Gran Sasso. Parliamo di 45-60 giorni e quindi sarebbe giusto che il Governatore Marsilio, insieme al Ministro Salvini, al Presidente Meloni, si adoperassero per ridurre i disagi dei terramani e degli abruzzesi, almeno riducendo e azzerando il pedaggio da Teramo all'Aquila Ovest. È una richiesta ufficiale che abbiamo fatto come gruppi di opposizione, ci sono stati alcuni rappresentanti della Giunta regionale che si sono apprestati a dire che stanno lavorando per raggiungere questo risultato. Ci auguriamo tutti che il risultato venga raggiunto, ma prima del 14 ottobre, inizio dei lavori.